Avvocato, qualche giorno fa quando era in visita da Grigento per presentare la sua candidatura a Rosario Crocetta, c'erano poche persone, tra i rappresentanti di partito, se non Pepernone e qualche altro soggetto, però in questi giorni è cambiato tanto. L'altro ieri Dalia ufficializza la posizione dell'Udc, Rosario Crocetta è il candidato dell'Udc, da poche ore anche Lupo si è espresso, Crocetta sarà il nostro candidato, lei sin dall'inizio ha sostenuto questa candidatura? E' una battaglia che abbiamo vinto, l'ha vinta Beppe Lumia, l'ha vinta soprattutto Rosario Crocetta, l'ha vinta Angelo Lomaio, l'ha vinta Antonello Cracolici, l'ha vinta ovviamente, per come le immagini mostrano, Peppe Arnone. Con Beppe Lumia abbiamo organizzato assieme, 15 giorni addietro, la venuta di Rosario Crocetta da Grigento, è stata una battaglia politica, democratica, limbida, quella di far passare la candidatura di Crocetta, ci siamo riusciti. E' la migliore candidatura possibile per un Presidente della Regione in gamba, bravo, credibile, autorevole, in grado di riscattare questa terra. Crocetta è stato il miglior sindaco d'Italia della città più difficile che ha il nostro Paese, Gela, 100.000 abitanti, con un tasso di criminalità, di corruzione, di mortalità per omicidi elevatissimo. Crocetta è diventato una bandiera della sinistra e soprattutto della Sicilia che sa riscattarsi e entrare in Europa a testa alta. Quindi si sta chiudendo il cerchio in queste ore sul candidato alla Presidenza della Regione, ma adesso i partiti dovranno fare conti con un altro argomento, cioè che è quello delle liste dei candidati all'Assemblea regionale siciliana. Lei da tempo ha già annunciato la sua candidatura, oggi la ufficializza e dice sarò candidato nella lista del PD. Semplice o non semplice questo? Io credo che sia assolutamente semplice. Ho portato la bandiera del Partito Democratico per rimarcare questo segnale. E credo che a Roma diranno una cosa semplicissima ad Angelo Capodicasa. Caro Capodicasa, metti il tuo uomo, lo fai votare, se hai più voti di Arnone verrà eletto, se hai meno voti di Arnone verrà eletto Arnone. La democrazia è questo. Chi ha più voti viene eletto. Nella città di Agrigento hanno voluto regalare il sindaco all'Udc con Marco Zambuto con una serie di follie di cui pure parteremo. Però la gente ha pure votato, ha detto chi è il capo della sinistra, lo ha ribadito, la gente ogni volta che vota glielo dice al capodicasa di Benedetto. Ragazzi vedete che qui la sinistra è Peppernone, vedremo nell'intera provincia.